I bambini ammalati di tumore si devono sottoporre a continue procedure dolorose, cioè prelievi di sangue e infusioni di farmaci chemioterapici. Queste procedure vengono effettuate tutte tramite il catetere venoso centrale. Il catetere venoso centrale è un dispositivo che viene inserito chirurgicamente in modo tale che sia sempre presente un accesso venoso, cioè un tubicino che esce dal corpo collegato con l'interno del corpo in cui vengono inseriti i farmaci. Per poter posizionare il catetere venoso centrale i bambini devono essere addormentati in sala operatoria e il chirurgo deve fare un taglio sulla pelle, inserire il cateterino dentro il cuore e farne uscire un'altra parte dal torace. Tutto questo è estremamente utile per i bambini ed estremamente importante. Esiste per oggi la possibilità in alcuni casi di evitare ai bambini il disagio della sala operatoria e anche del mantenere un catetere aperto che esce dal torace grazie alla possibilità di utilizzare le vene periferiche. Le vene periferiche sono le vene del braccio o possono essere le vene della gamba. In queste vene può essere inserito lo stesso catetere che può salire fino al cuore lasciando la cannulina che fuoriesce dal braccio. Questo sarebbe in teoria un processo estremamente semplice per ottenere gli stessi risultati che si ottengono con l'inserimento di un catetere in sala operatoria. Il problema però è che per poter posizionare questo catetere venoso è indispensabile riuscire a vedere le vene. Le vene non possono essere viste con gli occhi, sono sotto la pelle. Possono essere toccate e possono essere intuite, però la certezza della posizione della vena non la si può avere a meno che non si usi uno strumento che si chiama ecografo e che permette di fare la foto della vena sotto la pelle. In questo modo è possibile non solo vedere esattamente dove deve essere punta la pelle per raggiungere la vena, ma è anche possibile capire quanto è grande la vena in modo da poter scegliere il tipo di cateterino, cioè il tipo di tubicino, da poter inserire in modo che possa raggiungere la sede che deve raggiungere, cioè una via centrale e che non danneggi il vado sanguigno. Ciao, io sono Silvia, sono un'infermiera, vengo dall'incomatologia di Trieste e poi da Bologna, sono arrivata a Rimini, conosco già questo tipo di macchinario, l'abbiamo utilizzato e posso dire che rende la vita nei noi infermieri molto più facile. In alcuni casi, soprattutto nei bambini più piccolini, può essere complicato reperire le vene per uno scarso patrimonio venoso, per un po' di ciccia in più o magari per paura del bambino, per cui con questo tipo di macchinario che mette in evidenza subito, immediatamente le vene, io vado a colpo sicuro, nel 99% dei casi prendo la vena al primo foro, per cui il bambino ne viene fuori meno traumatizzato. Traumatizza meno il bambino in alcuni casi perché ci si gioca, avendo una luce verde si può dire tantissime cose, che so, l'autovelox ogni tanto, oppure la luce di ultravioletti dei supereroi, tutte queste cose. Il momento del prelievo di sangue costituisce un momento particolarmente delicato e traumatico sia per il bambino sia per i genitori, perché comunque è una manovra di per sé dolorosa, a nessuno di noi, se ci pensiamo, piace essere pizzicati, anche se il dolore dura poco per il prelievo. In realtà quando viene posizionato il catetere il dolore è più forte. Il fatto che il primo impatto del bambino è così traumatico e anche purtroppo violento, crea un prerequisito negativo nei nostri confronti. ci considera da subito come quelli cattivi. Avere la possibilità di fin dal primo momento entrare in contatto con il bambino in una maniera positiva, grazie a queste luci particolari, alla possibilità di giocare e quindi instaurare un rapporto di fiducia e con meno dolore fin dall'inizio diventa significativamente positivo per costruire in tempi più brevi una fiducia maggiore nei nostri confronti e una maggiore alleanza terapeutica.